La notizia che viene dalla Francia è sensazionale. Più precisamente dalla squadra Neymar ha trovato un accordo con la Lilal Neymar. Il mostruoso stipendio offerto da Lilal Neymar potrebbe quindi essere l'ennesimo gioiello dei club europei per accettare la causa saudita. Lo stipendio offerto dalla Lilal è monstre. Con l'offerta che è circa 160 milioni di euro per un contratto due anni. Dopo l'accordo trovato tra Oney e la società araba. Per chiuderlo rimane solo l'accordo tra le due società. Una prima offerta di 80 milioni era già stata consegnata al PSG e la sensazione è che le parti possano presto trovare un modo per chiudere.